I'm walking in the air, I'm floating in a minute sky, and the people far below, they greet us as we fly. Che cosa annuncia Radiomeria? Com'è strutturato il palinsesto? Quali sono i suoi programmi? E partiremo con la preghiera. Approfondiremo tutta la parte del palinsesto dedicato alla preghiera. Radiomeria annuncia la conversione. Convertitevi e credete al Vangelo. È questo l'annuncio di Radiomeria. Convertitevi e credete al Vangelo. E Radiomeria lo fa attraverso i programmi. Il palinsesto. Il palinsesto è lo schema dei programmi. Diurni e notturni. Quindi il palinsesto di Radiomeria chiama donne e uomini alla conversione. Vuol dire cambio di rotta. Intraprendere un cammino. Affinché possiamo camminare nella luce di Dio e quindi vivere poi nella pace. La pace con la P maiuscola. I programmi di Radiomeria che compongono il palinsesto. Si ispirano ai valori spirituali e morali del Vangelo di Cristo e agli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Quali sono le componenti fondamentali del palinsesto di Radiomeria? Sono la preghiera al primo posto, seguita dall'evangelizzazione, dalla promozione umana cristianamente ispirata. Anche i temi, quelli eticamente sensibili, sono comunque ispirati cristianamente. E' l'informazione che è sempre illuminata dalla fede. Anche voi sentite i canti, eccetera. Sono comunque sempre canti ispirati proprio a questo, no? A farci pensare. La preghiera, dicevamo che è l'attività più importante di Radiomeria ed è quella con maggior ascolto da sempre in assoluto e comprende le preghiere del buon cristiano. Radiomeria ha reinsegnato alle famiglie a pregare insieme, ha portato la preghiera del buon cristiano nelle case, nei posti di lavoro, in macchina, negli ospedali, eccetera, eccetera. Nelle carceri, nelle case di riposo, mattino e sera. Quindi la giornata di Radiomeria parte con le preghiere del buon cristiano e termina con queste. La Santa Messa quotidiana, trasmessa ogni giorno mattina e pomeriggio, la domenica sono, poi adesso lo vediamo, due messe la mattina, il pomeriggio una, durante la settimana una messa la mattina e una messa il pomeriggio. Queste messe vengono trasmesse dalle varie parrocchie, comunità, istituti religiosi, ospedali, carceri, scuole, addirittura a volte ci sono questure che trasformano piccoli locali in cappelle e quindi desiderano trasmettere la preghiera. Ci va il cappellano a celebrare la messa, eccetera, eccetera. Quindi la Santa Messa quotidiana, la liturgia delle ore, il rosario, l'angelus, le devozioni e le preghiere particolari. L'evangelizzazione, poi approfondiamo questa parte della preghiera, l'evangelizzazione fa riferimento a tutto il patrimonio di fede e di cultura della Chiesa Cattolica. Cosa comprende questo patrimonio di fede e di cultura della Chiesa Cattolica? Prima di tutto l'annuncio delle verità fondamentali della fede e poi la spiegazione sistematica del catechismo della Chiesa Cattolica, i corsi di teologia dogmatica, la teologia morale, la sacra scrittura, la spiritualità, la storia della Chiesa, la mariologia, cioè lo studio di Maria, la geografia, cioè le vite dei Santi, la dottrina sociale della Chiesa, tutte le problematiche pastorali, l'ecumenismo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, una parte del palinsesto, una buona parte, è dedicata alla promozione umana. Quindi qui tutti i corsi tenuti da esperti sulla famiglia, l'educazione, la bioetica, la salute, la medicina, il lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. L'informazione presenta gli avvenimenti del mondo nell'ottica della fede ed informa correttamente gli ascoltatori sulla via della Chiesa universale e locale. In ogni momento di trasmissione, Radio Maria deve comunicare luce, pace e fraternità. Ora, il primo aspetto che approfondiamo oggi è quello della preghiera, la preghiera da ogni angolo del mondo. Una delle splendide missioni, la più alta, diciamo, che portiamo avanti ogni giorno e ogni notte contraddistingue Radio Maria per la sua unicità. È la preghiera, quella della Chiesa, no? Quella di comunità. Grazie al prezioso servizio che svolgono quotidianamente i volontari degli studi mobili. Radio Maria trasmette circa 17 collegamenti di preghiera settimanali da luoghi diversi. Parrocchie, santuari, ospedali, case di riposo, carceri, seminari, monasteri, scuole paritarie, caserme, comandi di carabinieri e polizia. La preghiera viene assicurata grazie a questa rete cappillare che copre tutto il territorio italiano, la Svizzera italiana e si spinge anche fuori dall'Italia. Ad esempio abbiamo visto sul canale di Suez la base militare spesso ci chiede un collegamento perché il vescovo, il cappellano e la base militare chiedono proprio di poter come dire preparare loro la preghiera, la messa, cantarla, preparare le letture e poi avvisare i loro cari in Italia non solo che animeranno la messa. Quindi sono situazioni davvero uniche gli studi mobili sono quasi 80 80 studi mobili parliamo dell'Italia e vedono impegnati circa 400 volontari 400 solo in Italia eh i volontari seguono questo lo vedremo poi meglio giovedì seguono corsi di formazione tecnica che facciamo noi in sede quindi in presenza oppure online dipende dalla distanza dai periodi dalle possibilità custodiscono l'attrezzatura fornita da Radiomaria si impegnano a tenere i contatti con i sacerdoti i vescovi le suori cappellani del territorio di loro competenza perché sono suddivisi nei vari territori in ogni regione e si rivelano una forza vitale inesauribile per Radiomaria perché sono mossi dal desiderio di aiutare la Madonna a concretizzare la sua opera d'amore io ricordo mi hanno chiesto un saluto nell'ultimo corso io ero collegata online con loro e mi ha fatto tantissimo piacere c'era un bel gruppo e io sono partita così chiedendo perché lo faccio perché faccio collaboro con Radiomaria perché faccio il volontario di Radiomaria perché sono un volontario una volontaria di Radiomaria qual è la motivazione il desiderio di aiutare la Madonna a concretizzare la sua opera negli anni sono stati realizzati collegamenti di preghiera da località impossibili impervie sia per condizioni meteo a verse dove sono successi disastri dove non c'era connessione telefonica o di rete Radiomaria è arrivata e ha fatto il collegamento io ho visto Studi Mobili prendere il traghetto con l'attrezzatura sulle isole dove ci sono le carceri essere accompagnati dalle guardie insomma incredibile veramente niente l'attività degli Studi Mobili si è rivelata ancora più preziosa durante gli anni della pandemia pensate al lockdown è lungo l'impossibilità dei fedeli di partecipare fisicamente alle celebrazioni hanno reso Radiomaria gli Studi Mobili volontari uno strumento ancora più determinante per non far mancare quella messa quella preghiera nelle case degli italiani e non solo la preghiera è il cuore della spiritualità di Radiomaria i collegamenti di preghiera sono il cuore della spiritualità di Radiomaria allora dicevamo oggi ci concentriamo su questo su questa parte di preghiera quella effettuata dagli Studi Mobili in collegamento 17 collegamenti di preghiera alla settimana dal lunedì al sabato i collegamenti sono mattutini e pomeridiane possono capitare di collegamenti richiesti dai vescovi dai sacerdoti dove c'è magari quella ricorrenza per l'anniversario di quel determinato santo eccetera eccetera fondatore eccetera eccetera quindi a volte ci sono di notte di mattina presto di sera tardi il collegamento del mattino il mattutino apre alle 7.30 i studi mobili devono prima raggiungere giorni prima per una prova per vedere quale tipo di collegamento tecnico effettuare se la linea tiene non tiene bisogna cambiare l'antenna tutte queste cose tecniche vanno fatte prima poi si torna quella mattina presto perché alle 7.25 si parte e si apre con la recita del rosario tra l'altro i volontari abbiamo anche anche un manuale dove si cerca di come dire impostare l'ora di preghiera come la chiesa desidera quindi devono essere le preghiere recitate con le parole fedeli alle preghiere eccetera eccetera quindi c'è anche questo aspetto che curano quindi si apre la mattina alle 7.30 con il rosario poi seguono le lodi mattutine e la celebrazione della messa io amo tantissimo quando abbiamo i collegamenti dalle monache di clausura quindi sentite questa c'è un'aria totalmente diversa questi canti molto delicati quasi all'unisono questi cori meravigliosi oppure nei seminari no sentite subito un'atmosfera particolare e poi appunto la messa il collegamento del pomeriggio parte alle 16.40 mentre in sabato alle 16.20 la domenica parte alle 16.30 rosario Vespri Santa Messa il venerdì alle 8.30 di sera abbiamo il rosario animato dai gruppi giovanili quindi qui vengono coinvolte tutte le parrocchie il gruppo giovani di quella parrocchia prepara il rosario del venerdì sera è proprio un appuntamento che abbiamo pensato da anni per i giovani che si riuniscono in chiesa in oratorio per pregare insieme condividere anche con gli ascoltatori una testimonianza riguardante la loro fede cioè i ragazzi pregano preparano cantano pregano i rosari e poi danno una loro testimonianza di fede e le testimonianze che raccogliamo sono le più svariate dai bambini che frequentano il catechismo ai giovani che magari si riavvicinano alla fede dopo aver trascorso periodi bui della propria vita lontani dalla chiesa ragazze e ragazze che raccontano la loro esperienza di fede come animatori dell'oratorio della parrocchia eccetera la domenica il palinsesto ha quattro collegamenti prima messa festiva ore 8 poi c'è la messa delle 10 e 30 che è un po' quella più importante della settimana ogni domenica trasmettiamo da luoghi speciali parrocchie santuari parrocchie che festeggiano il santo patrono santuari che festeggiano le ricorrenze gli ospedali le cappelle degli ospedali dove partecipano i medici le infermiere e quindi il personale e gli ammalati alcuni mi dicono che quando non si può non possono ricarsi in cappella gli altoparlanti poi trasmettono la messa che noi appunto stiamo trasmettendo dalla loro cappella di quelle parti in ospedale insomma sì ci sono tutte queste cose particolarissime interne loro le carceri l'ultimo collegamento della domenica è la recita del rosario per la pace cioè è la prima domenica del mese e la terza a partire dalle otto in quarto di sera e questo rosario viene trasmesso da un luogo mariano proprio per pregare per la pace così come richiesto dalla madonna dalla regina della pace poi abbiamo poi abbiamo ogni 25 del mese storica questa cosa perché da sempre ogni 25 del mese c'è la veglia per la pace quindi ogni mese del 25 alle ore 8 Radio Maria comincia la veglia per la pace i volontari degli studi mobili accompagnano con la recita del rosario gli ascoltatori in attesa appunto del messaggio della regina della pace col commento del nostro padre Livio a seconda del tempo liturgico il palinsesto prevede collegamenti speciali li ricordiamo velocemente è storico il solenne pontificale dell'assunta ogni 15 di agosto la veglia di natale a partire dalle ore 22 del 24 dicembre cioè noi facciamo così alle 22 partiamo in veglia con la veglia il rosario e poi la celebrazione della messa la stessa cosa bellissima la facciamo l'ultimo dell'anno cioè si parte alle 22 è sempre una parrocchia diversa ogni anno che accoglie ci accoglie quindi noi trasmettiamo il tedeum di ringraziamento a partire dalle ore 22 il rosario e la celebrazione della messa il tutto dura diverse ore parte alle 22 termina verso l'una una e mezza perché perché noi chiudiamo l'anno non nella confusione nei botti tutto quello che segue ma proprio raccolti in preghiera per chi non può andare alla veglia nella propria parrocchia eccetera eccetera è storica sta cosa quindi dalle 22 alla 1 chi non può partecipare alle funzioni siete impegnati perché Radiomeria vi offre tutta quella fascia poi lo sappiamo bene in quaresima durante la settimana santa i collegamenti seguono questo importante tempo liturgico giovedì venerdì santo al mattino la via crucis al posto della messa il pomeriggio del giovedì santo il rosario e la santa messa la lavanda dei piedi il venerdì santo si osserva il silenzio dopo le ore 15 e quindi non vengono trasmessi collegamenti di preghiera e poi il pomeriggio del sabato santo il rosario le meditazioni e i vespri i'm walking in the air i'm floating in a minute sky the people far below they greet us as we fly i'm walking in the air e i'm walking in the air alexiglit la legge i'm walking in the air i'm walking in the air